Abbiamo già avuto un bel miglioramento con l'orario cadenzato, oggi con questo nuovo accordo si va a dare una risposta a quei cittadini che rappresentano il 10% degli utenti che ancora oggi non hanno risposta rispetto ad alcuni servizi notturni o durante il giorno. I tempi sono immediati rispetto ai temi degli orari e delle nuove tratte e rispetto alla gara ci vorrà un anno e mezzo per avere un nuovo gestore. Novità in vista dunque per i pendolari di Trenitalia in Veneto, la regione ha prorogato il contratto per avere il tempo tecnico di avviare e condurre in porto la gara per il nuovo gestore del trasporto regionale. Avvio del processo che porterà anche all'introduzione del biglietto unico regionale e alla tariffa unica regionale per l'utilizzo di tutti i vettori di trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario. È un'autentica rivoluzione anche perché è frutto del lavoro di anni. Oggi noi partiamo, partiamo ufficialmente e vorremmo avere il biglietto unico con tariffa unica alla volta di un anno e un anno e mezzo. E arrivano anche una serie di variazioni all'orario cadenzato concordati e richiesti da gruppi di pendolari e comitati per ottimizzare sempre di più i positivi risultati raggiunti finora in termini di puntualità e disponibilità di convogli. E' l'importante pacchetto di novità sul fronte del trasporto locale presentato assieme all'amministratore delegato di Trenitalia Vincenzo Soprano, affiancato dall'assessore regionali trasporti e dal direttore della divisione passeggeri regionali di Trenitalia Orazio Iacono.